E quindi se arriviamo al Big Bang arriviamo a quel calore lì. Eh sì, ma arrivarci non è così facile. Non è così facile, manca quel miliardesimo di millimetro di cose. Senta, ma questa ricerca l'avvicina o lontana dall'idea dell'esistenza di Dio? Penso che la scienza e la religione siano due domini separati, non si contraddicono. La scienza non potrà mai dimostrare l'esistenza o no di Dio, quindi penso che sia una situazione di parallelismo e di approcci diversi. La scienza è basata. Ma lei è filosofa e scienziata, personalmente? L'avvicinata oppure è un problema che non si pone? Diciamo, quello che io vedo nella natura, il suo ordine, la sua semplicità, la sua eleganza, mi avvicina all'idea di una mente intelligente, ordinatrice dietro. Perché la natura è bellissima e anche le leggi fondamentali della fisica sono esteticamente belle, semplici, essenziali e si motivano quasi da sé. Insomma, ci crede Dio, no? Sì.